Buongiorno, questa mattina Street Voice vi porta in via Rin, perché questa via, assieme a un tratto della via San Roc, è oggetto di un'ordinanza del comune di Livigno, la quale stabilisce che dall'8 al 25 agosto, dalle ore 10.30 alle 18.30, le automobili e i veicoli non possono transitare su questo tratto, salvo ovviamente eccezioni. Le eccezioni sono rappresentate chiaramente dai residenti, dai turisti che alloggiano nelle strutture recettive situate in questo tratto di strada, dagli operatori del commercio e dai fornitori di merci. I turisti apprezzeranno questa ordinanza? Vediamo. Salve, buongiorno, posso chiedere da dove viene? Sono di Terni, Umbria. Sì? E' qui in vacanza, Livigno? La prima volta? No. Da parecchio tempo? Sì, sì. Ha notato che adesso su questa via che sta percorrendo non ci sono automobili o in teoria non dovrebbero? Sì, ho notato, ho notato, ed è una bella cosa, specialmente per noi abbiamo anche... Infatti ho visto che ha il cane. Certo. Quindi era un provvedimento da prendere? Secondo noi sì. È temporaneo, le dico. Va bene, va bene, noi ne approfittiamo temporaneamente. Da che ora è su questa via? Da quanto tempo sta circolando qui? Da un'oretta circa. In questa oretta ha visto automobili transitare? Ne ho viste 4-5, non di più monestamente. Ci sono delle eccezioni, quindi magari facciano parte di queste eccezioni. Tutti carico e scherico. Va bene. Grazie mille. Ciao. Da dove? Lissone, Brianza. Qui in vacanza a Livigno, non per la prima volta. No, fischia. Vediamo due volte, tre all'anno, bellissima, unica, non ce n'è. Perché bellissima, unica? Vabbè, fai shopping, c'è l'aria pulita, non c'è troppo casino. D'estate è poi ideale perché fa fresco, visto che da noi si muore. Poi il cane può stare libero, uscrono i bambini, i giochi, lo sport, la montagna. Poi siamo in Lombardia, scusate, giustamente. Andiamo tutti in Trentino, siamo lombardi, andiamo in Lombardia. Questa mattina quali sono i vostri programmi? Cosa farete? Shopping, ovviamente. Poi si pranza con i pizzoccheri, poi un po' di relax al sole e poi vediamo, giustamente. Un po' di sport, magari ci sta, prima dell'aperitivo. E su questa via? Ha visto transitare delle automobili? No. No, adesso no. Non è molto che siamo arrivate comunque, siamo fermate a fare un giro. Adesso andiamo a cercare un paio di cose perché, vabbè, la cosa bella è far shopping. A Livigno abbiamo fatto benzina, altra cosa conveniente. Perfetto. No, le chiedevo delle automobili perché c'è un'ordinanza e in effetti sembra essere rispettata. Sì, sì. Quindi conferma che non ha visto automobili qui. No, no, sulla zona qua no. È contenta di questa cosa? Certo, perché l'aria è pulita, se non roviniamola. No? Ecco, va bene, grazie. Buon lavoro. Da Como? Da Como. Da Como, qui in giornata oppure per un periodo? No, per oggi, solo oggi. Solo oggi? Sì, solo oggi. State facendo una passeggiata qui a Livigno? Sì, Livigno è un passeggiato, però è bella. Bella? Le piace? Sì, piace. Che cosa le piace? Per tutto, casa, fiore, per tutti. Da quanto tempo questa mattina sta passeggiando su questa via? All'11. Dalle 11, quindi è un'ora più o meno. Sì, un'ora. Ok. Ha visto transitare delle automobili su questa strada? No, non ha visto. È contento di questa cosa? Sì. Buongiorno. Qualcuno ha fatto shopping questa mattina? Sì. Da dove viene? Da Pisa. Da Pisa, qui in vacanza per quanto tempo? Di passaggio. Di passaggio? Sì. Dove è diretto, ci dica? A casa giù, a Santa Croce sull'Arno, a Pisa. A Pisa, ok. Quindi ha fatto una sosta qua a Livigno? Sì, esatto. Ok. Ha fatto una passeggiatina con un po' di shopping, giusto? Diciamo, sono di rientro dalla Germania, stavo male nel posto che sono andato, sono venuto via prima e ho dirottato, sono passato di qua. E come è stata questa deviazione? Piacevole? Sì. Da ripetere. Volevo sapere solo una cosa, su questa via ha visto per caso transitare automobili? Sì, un paio, però erano annessi ai servizi, ai negozi. Ai negozi, ok. Sì. Quindi non ha visto altri automobili a parte quelle degli operatori? Sì, esatto. Va bene, è contento di questa cosa? Oppure da turista vorrebbe poter arrivare con la macchina fino a questo tratto? Assolutamente no, se no poi non sarebbe più piacevole la passeggiata e lo shopping. Certo, quindi d'accordo insomma con questa scelta? Sì, esatto. Va bene, grazie mille, buona giornata. Da Milano, qui in vacanza? Siamo a Bormio. A Bormio, quindi qui in giornata? In giornata, sì. Adesso però ci dice perché ha preferito Bormio e Livigno a questo punto. Perché ci andiamo da diversi anni, siamo innamorati di Bormio. Quindi al cuore non si comanda? Al cuore non si comanda. Qui a Livigno per fare una passeggiata, cambiare aria? Un giro. Un giro. Un giro. E da quanto tempo è su questa via più o meno questa mattina? Un'oretta, mezz'ora? Ma anche un'oretta, sì. Anche un'oretta. Ha visto per caso transitare dall'automobili? Sì. Sì, su questa via? Sì. Ma tante, poche? Tre o quattro. Ah, quindi tre o quattro in un'ora. Probabilmente erano degli operatori del... Un paio avevano del cartellino residenti, il bollino residenti. Ok, perché c'è un'ordinanza in corso e parrebbe che sia rispettato da quello che vediamo. Non so. È un'ordinanza temporanea per limitare il traffico, visto che questo è un periodo di grande afflusso turistico. hanno vietato il traffico alle automobili, eccetto gli operatori residenti e turisti degli alberi. Sensata. È sensata. Direi di sì. Sì, assolutamente. È d'accordo. Ma io non abito a Livigno, però... No, da turista. Lei è da turista? Turista sì, assolutamente. Perché no? D'accordissimo. Non le dà fastidio non poter arrivare con l'automobile fino a questo traffico? L'unica cosa di cui discutevamo stamattina è qualche parcheggio un pochino più fruibile fuori, perché non si può arrivare giù dal Foscagno e avere 500 metri di coda. Quello forse non va bene. Poi sul resto niente da dire. Se ci siamo tornati e veniamo qui ogni tanto, non vuol dire che ci piace. Quindi più parcheggi? Quello sì, sempre. Come? Magari anche fuori, che poi lo raggiunge a piedi, tanto voglio dire siamo in montagna, perciò... Ecco... Magari è anche gratuito? Magari anche a prezzo contenibile, ecco. È proprio gratuito. Sì, l'unora è un prezzo abbastanza considerevole. Rispetto alla vostra città di proveniente? Rispetto a un parcheggio metropolitana milanese di Milano, che costa molto meno, allora. Da Brescia. Da Brescia. Qui in giornata? No, un paio di giorni. Un paio di giorni. Siamo stati fortunati. Perché fortunati? È sole, bel tempo, tanta gente, belle cose. Più bello di così. Ci eravate già stati? Sì, sì, quasi tutti gli anni, veniamo volentieri. Sempre d'estate? Sì, sì, sì. Ci piace tanto. Come mai? Vi piace tanto? Eh, abbiamo scoperto questo posto anni fa e... Boh, siamo innamorati. Perché non manca niente? Siete amanti anche del trekking, dello sport? Eh, no. No, siamo un po' pigri. Nello shopping? Shopping. Avete delle buste in mano? Un paesaggio. Ecco. Ecco. Allora, qui su questa via, da quanto tempo siete qui? Da questa mattina? Mezz'ora, un quarto d'ora? Subito dopo la colazione. Verso le nove. Ah, quindi un bel po'. Sì, sì. Fino alla sera facciamo avanti indietro. Avete visto delle automobili passare su questa via? Sì, sì, abbastanza. Abbastanza? Perché c'è un po' di traffico. C'è un po' di traffico. Un po' di più rispetto altri anni. Ho notato che... Addirittura un po' di più. No, altri anni non... Ma su questa via, io dico, via Rin? Sì, 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 sì. Proprio come adesso, c'è un via che vai abbastanza... Perché in teoria non potrebbero passare qui le macchine. Passano. Salvo eccezioni, eh. Salvo gli operatori, salvo... Eccezioni, però... Presidenti, altre categorie. C'è un bel po' di traffico. Va bene. Le dà fastidio questo? Un po' sì, diciamo. Perché devi essere molto attento. Se no, non si sa. Lei da turista, invece, quindi, mi sembra di capire che non vorrebbe con la macchina poter accedere fino a questo tratto. Dovrebbe essere vietato in alcune vie, diciamo, secondo me. Come per esempio questa qui, le vie centrali, immagini. Sì, 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 sì. Specialmente queste che molto... Cioè, bambini, cani, anziani, carrozzine, di tutto e di più, direi. Poi non... Cioè, di traffico siamo abbastanza stufi a casa nostra. Va bene. Quindi lei dice, venite apposta per non averlo, il traffico. Un po' direi. Ok, grazie. A voi, buona giornata, grazie mille, arrivederci. Buongiorno. Buongiorno. Da dove venite? Bologna. Ma vi abbiamo spaventato? No, no, assolutamente no. No, no, no. Sarà anche l'aperitivo che... Sì, l'aperitivo aiuta. Quindi questa mattina voi siete qui a fare un giro a Livigno? Aperitivo? Sì. Shopping? Sì. Sì. Sì, perché purtroppo il tempo è quello che è, non sappiamo bene. Non ci allontaniamo dal paese oggi. Altrimenti quali sarebbero stati i vostri piani? Boh, il giro da qualche parte, il sentiero e poi dopo si si arrampica da qualche parte o fare il giro sopra, fare il giro di là, ce ne sono di ogni tipo, perché ormai sono già... 15 anni? 13 anni che veniamo qua, quindi... Tutti gli anni? Sì, sono gli affestinatos del posto. Solo d'estate o anche d'inverno? Solo d'estate, sinceramente. Si manca l'invernale. Ma anche all'invernale, sì, per problemi, uno, lavorativi e un po' anche magari forse un po' di corsi che d'inverno la sci è un sport quasi dell'iter diventato. E notate differenze, visto che potete fare questo paragone rispetto agli anni precedenti, quali vigno? Un'evoluzione continua. Un'evoluzione continua. Continua. Una volta era solo. Da punto di vista uno dei negozi, diciamo, della vendita, per cui quando siamo arrivati era tutto incentrato sulla tecnologia e adesso ormai sono rimasti tre negozi. basti di tecnologia oppure triangoli, cioè nel senso sulla moda, sull'orologi, profumi. Profumi c'erano già sempre comunque, sì, abbigliamento, però è sempre un paese dove si vive bene perché c'è un po' di tutto, cioè nel senso chi vuole, chi non è da montagna sta in paese, cioè chi si vuole fare i giri se li fa. Insomma, oggi che è una brutta giornata comunque te la passi lo stesso. Non c'è il problema di star chiuso in casa, è una bella passeggiata, è un po' la riccione. È un po' caldo anche qua, perché quando arriviamo il primo anno la signora qui sotto ci disse quest'anno è molto caldo, ha fatto anche 24 gradi e adesso invece 24 gradi è diventato quasi una temperatura usuale forse. Il caldo se lo volevamo restavamo giù, quindi noi quando viene fresco noi ci ricordiamo di essere andati all'acqua grande con la neve ad agosto. Quindi vi manca la neve ad agosto? No, beh così si sta bene, però insomma... Però la passeggiata la sera una volta erano con i 3 gradi, adesso è con 10 gradi la sera, cioè si vede il cambiamento. Quindi questo è l'unico aspetto negativo per quanto vi riguarda? Non è un aspetto negativo, è globale. Guarda, se vuoi cercare un aspetto negativo, noi di solito non venivamo in questa settimana, però c'è tantissima gente, cioè è un po' diventata molto caotica rispetto a un po' di anni fa. Quello sì. Poi bene per Livigno perché continuamente si vede che il turismo tira molto, soprattutto quello sportivo, però... Voi da turisti vorreste più tranquillità? Un pochino, non troppa, se no andavamo a cercare un paesino in mezzo ai botti. Questo possiamo segnalarlo, perché riguardo il clima non penso si possa fare più di tanto, però riguardo questo aspetto chissà. Comunque io vi ho affermato in realtà per un altro motivo, volevo sapere se in questa vostra passeggiata che state facendo avete per caso incontrato delle automobili, questa via, eh? Su questa via qua. Arin, sì, esatto. Sì, 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 sì. Sì, abbastanza movimenti che escono dagli alberghi, oppure... Vabbè, camion che fanno rifornimenti, magari, tra virgolette, potrebbero avvenire in altro orario e fare rifornimenti ai negozi piuttosto che alle 11 di mattina. Però loro hanno il permesso? Loro hanno il permesso così come anche gli ospiti degli hotel e delle strutture ricettive e i residenti. Senza permesso non li ho controllati, non... Però le persone, da quello che mi sta dicendo, gli automobilisti che ha visto qui erano... uscirono comunque dagli hotel, dalle strutture ricettive, oppure... Lo sappiamo, però immagino di sì. Cioè, anche noi, anni scorsi, che avevamo, abbiamo avuto il caso un po' dappertutto, eravamo là sotto e uscivamo con la macchina, con la macchina nostra e parcheggiavamo. Dipende, mica, mica, mica sempre. Siete d'accordo con questa ordinanza, oppure no? Cioè, qui le macchine, qui gli automobili devono transitare o no, secondo voi? Secondo me è una zona pedonale, una zona pedonale. Quindi vuol dire che anche le bici vanno accompagnate. Invece ancora c'è chi gira con la bici e poi dopo, ok, zona pedonale con le fasce orarie per chi si deve muovere. Allora, partiamo per gradi. Quindi siete d'accordo che questa sia una zona pedonale e quindi che qui non ha transit di non-leto mobili? Sì, sì, sì. Ok, le eccezioni devono essere fatte oppure no? Per eccezioni intendo i residenti, intendo gli operatori del commercio. Devono essere fatte per forza, è difficile. Se uno ci abita è difficile anche che... che non utilizzi l'auto, magari fare un pochettino più parcheggi sulla zona fuori in maniera che uno non deve... perché alla fine poi, cioè, dalla strada arrivare a dove si devono muovere sono 20 metri, perché non c'è niente più sopra. Cioè, non è che uno deve passare con la macchina per andare da un'altra parte. Quindi magari avere un po' più parcheggi da questa parte qua, più fruibili, permettono alla gente di lasciare lì la macchina e farsi soltanto 30 metri ai piedi per arrivare dove devono andare, perché le distanze poi sono quelle in... verso la montagna, non è che ci sia molto di più. Quindi, secondo lei, non dovrebbero esserci eccezioni, bensì dei parcheggi più vicini, modo tale che questi operatori, che queste categorie di persone, possano comunque gestire la propria quotidianità? Se le auto passano dentro una zona pedonale, meglio essere. Questo è ancora un flusso gestibile. Cioè, io non so adesso se devono cambiare le leggi, se devono... No, no, c'è già un'ordinanza che stabilisce appunto questo DVC, si è già applicato. Secondo me questo è... Ovviamente ci sono le eccezioni menzionate. Questo, secondo me, è ancora un flusso assolutamente accettabile. Cioè, quindi limitarlo ulteriormente non vorrei che andasse poi troppo a discapito della comodità sia degli operatori che dei turisti. Per adesso così, secondo me, è gestibile. Di più sarebbero probabilmente troppe e niente bisogna avere... A noi non cambia niente, noi siamo qua turisti e ci muoviamo a piedi, però penso che per gli operatori soprattutto potrebbero... Però se voi alloggiaste qui su questa via, vorreste avere la possibilità di parcheggiare qui, di transitare qui oppure no? Sì, certo, certo. Io, sicuramente, avere un parcheggio vicino è basta. Cioè, ci sono gli autobus che ti muovi... Vabbè, la valigia... Sì, per portare la valigia devi poter arrivare fin dove arrivi. Sono 30 metri, cioè... Perché ricordi quando avevamo i pulmini con i bambini e tutto? Avevamo fuori dalla zona, avevamo un pulmino da otto posti e... Bene. I seggioloni, porti te i seggioloni poi. A posto. Un dibattito interessante, quindi. Due punti di vista differenti. Però, una cosa è certa, riguardo alle altre automobili, qui non ci devono passare. Fate salve le categorie, le canne. No, no, salve chi ha esigenza, diciamo, di passare. Così va bene, di più no. Quindi se l'alternativa è aprire ulteriormente, secondo me no, sarebbe sbagliato. Va bene, grazie per il vostro contributo, allora. Salve. A Genova. A Genova, qui a Livigno, in vacanza per quanto tempo? 15 giorni. E non è la prima volta? È la... 15 anni. 15 anni. E ci avete le facce da turisti abituali? Sì. Perché tornate qui? Perché ci piace. Cos'è che vi piace? Mi piace tutto di Livigno. Tutto. Una cosa in particolare? Negosi, tutto. Mi piace tutto. Rispetto a Genova, qui costano meno gli articoli? Mica troppo. Mica troppo? Ultimamente un po' meno. Sono alzati parecchio. Eh beh, sono stati parecchi. Un pochino... È un po' cambiata anche qua, mi sembra. Ok. Ci sono altri aspetti che ha notato differenti rispetto a prima? Ma benzina costa poco. No, ma il vestiario anche. Certo, il vestiario costa un po' niente. Se non si trova proprio il 50% i prezzi sono... Eppure continuate a venire qui? Sì, sì. Per fare le passeggiate? Ma non per comprare tante cose, sa. Comprare ogni tanto qualche borsina per mangiare bisogna comprarla. Però venite per respirare l'aria buona, un po' di fresco. Non c'è di umilità, perlomeno. A Genova abbiamo tanta umilità. E si respira, veramente. E si passeggia. E si passeggia. Su questa via in particolare dove state in questo momento, via Rin, avete notato delle automobili? Passare? Eh, qualcuna sì. Anche noi passiamo. Come anche voi passate? Abbiamo... abitiamo lì in un appartamento. Ecco, perfetto. Allora siete un campione perfetto per quanto ci riguarda. Perché vogliamo sapere, siete d'accordo o meno con l'ordinanza che c'è in questo momento? Sì, sì, no. Meno, meno traffico perlomeno c'è. Quindi è giusto che questa strada sia chiusa ai veicoli tranne eccezioni? Tranne eccezioni. Ed è giusto che voi siate l'eccezione in quanto... Appartamento. Ok. Quindi anche le altre categorie... Appartamento. Primo anno. Gli altri anni? Avevamo il camper. Ah, e come mai questo cambio quest'anno? L'abbiamo venduto. Basta, non avevo più voglia del camper. Basta camper. Quindi comunque a voi da turisti, a voi darebbe fastidio se vi togliessero la possibilità, abitando da turisti qui per un periodo di tempo, di transitare con la vostra automobile qui su questa strada? Se vi dicessero di non farlo... Non viene più, la lasci di là, la lasci fuori. Vi darebbe fastidio o no? Un pochino sì. Un pochettino, un pochino sì. Eh beh, la comodità. La comodità. Però se pensa fino all'anno scorso, che avevate il camper e quindi altrove, da turisti, da pedoni... Con la corriera o a piedi. Quest'anno siamo più... siamo meglio, ecco. Siamo più tranquilli. Quindi secondo voi va bene così? Sì, sì, va bene. È giusto? No, no, è giusto, è giusto, è giusto. La comodità della casa, la macchina sotto. Quindi residenti, operatori e turisti che alloggiano qui, devono poter utilizzare la macchina qui. Gli altri no, giusto? Eh beh, non so, non c'è... No, sto chiedendo la vostra opinione. Meno traffico, meno traffico, c'è perlomeno. Perché c'è anche chi dice no, non deve passare nessuno qui. Sì, o se dicono che non passa nessuno, non passiamo neanche noi, eh. Però voi state bene così? Sì, sì, bene così. D'Alecco, quindi, in giornata? Sì, in giornata, è andata e ritorno. Come siete abbinati? Fatevi vedere un attimo insieme. Chi sono questi gruppi musicali? Rammstein, un gruppo industrial metal. Quindi siete appassionati di questo genere musicale? Sì, assolutamente. Anche lui. Eh, vedo, vedo. Cos'altro vi appassiona? Cinema. Cinema. Arte. Come mai siete qua all'Ivigno? Acqua. Ci andiamo ad agosto di ogni anno. Ah, quindi siete qui ogni anno in agosto. Sì, sì, è una specie di tappa della nostra famiglia. Bene, bene. E quindi venite qui, fate una passeggiata. Sì, torniamo a casa. Allora, nella vostra passeggiata su questa via, intendo, avete incontrato automobili? Qualcuna sì. Qualcuna? Sì. Però magari erano di, non so se ci avete fatto caso, persone che alloggiavano qui, turistiche. Quello no, non ci avevo fatto caso. Non ci avevo fatto caso. No. Però comunque ha visto pochi automobili? Sì, vabbè, uno ogni tanto passa, probabilmente per i residenti. Esatto, questo infatti vogliamo sapere. Quindi in teoria viene rispettata l'ordinanza che c'è. Se ne ha viste pochi di automobili. Sì, ma poi è tutto pulito. Da turista le fa piacere, immagino, che questa zona sia chiusa al traffico? Sì. Vorrebbe lo fosse totalmente? Cioè vorrebbe che anche i residenti, gli operatori, i turisti che alloggiano qui? Vabbè, forse quelli che hanno la casa, no, di residenza, no. Quindi è giusto così. Oppure quelli che hanno magari una persona disabile in macchina che ha un'attenzione di disabilità. Quello è scontato. Quello è scontato. Indubbiamente non può pretendere che faccia tanti pezzi a piedi. Quindi va bene così. Scusa al traffico per le altre automobili. Tranne anche per residenti, turisti che alloggiano qui, operatori. E anche naturalmente quelli che trasportano, magari, non so, come si dice, quelli che fanno consegne. Certo, certo. È una categoria che rientra nelle eccezioni, infatti. Va bene, allora grazie mille e buona passeggiata. Come era immaginabile, tutti i turisti intervistati concordano con la chiusura al traffico veicolare di questo tratto della città. Anzi, semmai c'è chi vorrebbe fosse totalmente chiuso al traffico, senza eccezioni. Magari costruendo dei parcheggi dimitrofi, in modo tale da consentire agli operatori e ai turisti che qui alloggiano e ai residenti, chiaramente, di accedere qui a questa parte della città senza utilizzare l'automobile. Ci vediamo al prossimo appuntamento.